Ed oggi chiudiamo le nostre cronache dall'Italia andando a Torino dove la Digos ha eseguito 13 tra arresti e obblighi di firma nei confronti di esponenti del Centro Sociale a Scatasuna tra le accuse, i disordini scoppiati in Valsusa nei mesi scorsi. Linea in diretta a Gabriele Russo. Giorgio Rossetto che è uno storico esponente del panorama dell'autonomia e leader del Centro Sociale a Scatasuna tra gli arrestati nel bliz della Digos e della Questura del capoluogo scattato all'alba. In tutto sono 13 le misure cautelari eseguite su ordine della Procura di Torino nell'ambito delle indagini per resistenza aggravata pubblico-ufficiale e violenza privata aggravata commesse sia in città sia nell'ambito della mobilitazione contro la TAV in Valsus. Stiamo vedendo proprio alcune immagini, proprio foto e video emerge dall'inchiesta hanno consentito di raccogliere elementi per dimostrare l'utilizzo di fuochi, materiali infiammabili, pietre e bulloni, fionde e tubi da lancio per razzi. Nei confronti dei 13, due sono in carcere e due domiciliari, per gli inquirenti vi sarebbero gravi indizi di colpevolezza perquisiti anche alcuni presidi NOTAV a Chiomonte e a San Didero da tempo cuore delle manifestazioni contro l'alta velocità Torino-Lione. Non è certo la prima volta che il Centro Sociale a Scatasuna finisce nelle pagine della cronaca giudiziaria in Parlamento. Solo poche settimane fa il Ministro dell'Interno, Lamorgese, attribuì proprio al Centro Sociale torinese la paternità degli scontri avvenuti durante le manifestazioni degli studenti di fine gennaio. E da Torino è tutto, linea a voi.